Buongiorno, siete sul canale Pratiche Sartoriale alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana. Continuiamo il lavoro con il pantalone palazzo. Osserviamo il nostro disegno. Sulla linea del fianco ci saranno due spacchi alti che non saranno cuciti ma potranno aprirsi. Sul disegno ci sono sette bottoni ma il numero può cambiare. A capo pronto i bottoni potranno essere aperti all'altezza desiderata. Ho visto in giro persone con pantaloni simili e queste aperture creano un bellissimo movimento mentre uno cammina. Partendo da oggi vedremo come costruire questo pantalone in un video apposta e invece vedremo in dettaglio poi come realizzare gli spacchi in un altro video tutorial. Praticamente oggi costruiamo il pantalone e lo tagliamo. Dopodiché in un tutorial vedrete come confezionare i spacchi. In realtà questo pantalone non è diverso dal primo pantalone a palazzo che abbiamo fatto tranne che per questi spacchi. Ho pensato a lungo che elemento introdurre per fare questo modello più interessante e per avere anche la possibilità di imparare qualcosa di nuovo dal punto di vista della tecnologia e del lavoro. Io ho deciso di fare questo modello visto che ultimamente è molto di tendenza. L'ho visto nelle svelate di Chanel, di altri designer e ho pensato che noi non possiamo rimanere indietro. Dobbiamo avere anche noi questo modello nel nostro guardaroba. Penso che ce lo meritiamo. Come prima cosa dobbiamo decidere da dove inizierà lo spacco. Quindi iniziamo a lavorare e state attenti a quello che faccio. Decidiamo da dove inizierà lo spacco. Metto uno di fianco all'altro il davanti e il dietro con le cuciciture esterne che si toccano e propongo che lo spacco inizi da qui. È importante segnare entrambi in questo modo così evitiamo errori. E prima di mettere a parte uno dei dettagli vediamo di quanti bottoni avremo bisogno. Qui abbiamo due tipi di bottoni, io scelgo questi. Guardate. Vedete sono due tipi, tutti e due francesi, io voglio questi. E contiamo. Direi sei bottoni possano bastare, sette sono troppi. Vedete sei bastano, sette sono troppi. Vedo già da adesso quanto sarà bello questo pantalone. Metto da parte il davanti per il momento. Per l'orlo ho lasciato 4 cm. L'altra volta ho lasciato 6, ma erano troppi. Quindi adesso lascio 4, poi imbastisco a 6, perché il pantalone palazzo numero 1 era un po' lungo per me. Questo cartamodello è lo stesso dei pantaloni palazzo numero 1. L'abbiamo solo riportato su un nuovo foglio di carta. Segno bene la linea della stiratura così è tutto chiaro. Come abbiamo già detto mille volte, la linea della stiratura è sempre parallela alla cimosa. Certe cose non mi stancherò mai di ripeterlo. E scrivo dritto filo. Bisogna veramente seguire questa linea. Vedete questa è la linea della stiratura o linea della piega. La stessa cosa. Scrivete proprio dritto filo e deve cadere assolutamente in dritto filo. E adesso misuriamo. Questa linea deve essere a distanza uguale dalla cimosa. Scrivo qua dritto filo. Vedete? Ora con un righiello misurate che questa linea sia alla stessa distanza dalla cimosa. Vedete? In qualsiasi punto deve essere alla stessa distanza. Parallelo. Andiamo avanti. Vediamo qual è la differenza tra il davanti e il dietro quando abbiamo un modello con dei spacchi. La differenza è che sul davanti aggiungiamo in larghezza 5 centimetri sulla linea del fianco, mentre sul dietro aggiungiamo 10. Perché? Adesso lo capirete. E in realtà io sono già pronta a tagliare. Il mio tessuto è alto 2,15 metri. Su questa linea dobbiamo fare un'imbastitura per segnare dove andremo a piegare lo spacco, ma adesso ci arriveremo. Sinceramente ci siamo messi tutti insieme per capire come si può fare per darvi tutto il materiale in pochi video, in modo tale di non farvi aspettare troppo. E da qui taglio dritto, per adesso. Il primo modello del pantalone a palazzo mi è piaciuto tantissimo, quindi non ho modificato nulla. Non dobbiamo pensare a nulla. Il cartamodello è stato già pensato e testato una volta. Siamo sicuri che vada tutto bene. Quindi tagliamo con più coraggio adesso. Per quanto riguarda le spacche vi faremo vedere tutto, a partire dall'imbastitura, lo stiro e come fare gli angoletti. Tutto quanto. Qui abbiamo il nostro punto di controllo, cioè l'attacca all'inizio dello spacco. Sulla cucitura interna invece il punto di controllo è sulla linea del ginocchio. Facciamo una piccola attacca e sappiamo che devono combaciare davanti e dietro. Ecco qui, questo è il dietro del nostro pantalone. Vediamo adesso il davanti. Segniamo la linea dello stiro e posizioniamo il cartamodello con la linea dello stiro parallela a distanza uguale della cimosa. All'orlo lascio anche qui 4 centimetri. 4 centimetri sull'orlo e invece sul fianco misuro 5 centimetri dalla linea a fianco all'esterno. Nello stesso modo come ho fatto io con il primo pantalone a palazzo potete fare anche voi. Fate il cartamodello e poi usatelo per diverse e nuove varianti. E anche in questo caso andremo poi a fare un'imbastitura per segnare la linea dello spacco. e prima di tutto anche la linea della stiratura per il davanti. Così quando vi guardate allo specchio alla prova capite subito se tutto a posto. poi dovete fare un'imbastito e poi vediamo il rischio. buccia Sì, sì. Come ho già detto, qui bisogna imbastire questa linea e averla sempre, quella del davanti della stiratura va sempre passata con il filo, fino alla fine del pantalone. Bisogna tenerla. Solo così potete capire se il pantalone cade bene. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ed eccoci qua. Abbiamo il davanti con i 5 cm per lo spacco e abbiamo anche il dietro con i 10 cm per lo spacco. Abbiamo fatto il taglio. Adesso armiamoci di pazienza e facciamo tutte le imbastiture. Da questo dipende la bellezza del nostro capo. Sono molto importanti. Dovete fare delle linee belle e dritte. Io uso il righello. E faccio la linea partendo a un centimetro dal margine. E con l'altra parte. E con l'aiuto dei spili trasferisco questa linea dall'altra parte. Vedete? Bisogna lasciare il centimetro di margine di cucitura. Ora trasferiamo questa linea dall'altro lato. Prendo di nuovo il righello e traccio la linea. Tutto deve essere perfetto. Ripasso anche la linea dello stiro. Ripasso anche la linea dello stiro. Ripasso anche la linea. Ripasso anche la linea. Tolgo la carta e trasferisco dall'altra parte la linea dello stiro. Questa è già fatta. Adesso devo trasferire la linea della stiratura. Questo pantalone va benissimo per l'estate, va benissimo perché potete realizzarlo in cotone, in lino, in crepe, cioè in qualsiasi tessuto adatto insomma a questo tipo di pantaloni. Grazie. Segno il rovescio e tolgo tutti gli spilli. E quando alla fine vedrete lo spacco realizzato capirete perché adesso stiamo facendo tutto questo lavoro. Non pensate che se non è stato tutto stirato seguendo le linee dritte avrete un bel pantalone con gli spacchi dritti. Non è possibile, bisogna proprio fare prima le linee dritte. Le imbastiture delle linee dritte si fanno sempre, aiutano molto per segnare dove sarà lo spacco, dove dobbiamo stirare eccetera eccetera. E garantiscono un bel risultato finale. Proprio questi piccoli particolari. Senza queste cose non arriverete mai al risultato garantito. Adesso finisco e vi faccio vedere. Le altre imbastiture le farò a telecamere spenti. imbastire sempre fino alla fine, nonostante ci fosse l'orlo. Sempre fino alla fine. Stiamo facendo i preparativi per la realizzazione degli spacchi laterali. ed ecco che abbiamo finito con la prima linea. Immaginate quanto sarà facile lavorare e non perdere questa linea dopo aver stirato. E dopo andremo a piegare lungo questa linea e vedrete come ci aiuta l'imbastitura. Pieghiamo e avremo i nostri bellissimi spacchi laterali. Adesso vado ad imbastire le altre linee laterali e anche le linee dello stirro davanti. Ed eccoci pronti, vedete tutte le linee imbastite. Vedete anche le linee della stiratura sono state imbastite, così non ci perdiamo. Spero sia tutto chiaro fino a qui. Continueremo il lavoro nel prossimo video. Intanto abbiamo fatto tutto il lavoro di preparazione. Da qui in poi la realizzazione degli spacchi sarà una piacevole passeggiata. Vedete? Lo spacco laterale, come vedete, ho lasciato il margine di cucitura. Mi raccomando. Bene. L'importante è lavorare sempre di precisione in questo modo, come facciamo noi. Così dopo non avrete mai i problemi di realizzare un capo fatto bene. Vedete? Imbastito anche qui tutte le linee. Linea piega, linea spacco. Spero che fino a qui veramente vi sia tutto chiaro. Nel prossimo video vedrete come confezionare questi spacchi laterali. E vedrete passo per passo ogni angoletto. Con questo oggi vi saluto. Mettete like, condividete i nostri video, iscrivetevi al nostro canale e acquistate i nostri corsi. rimanete insieme a noi. Con voi sono stati Paus Terin Mihailona e tutto il nostro team. Alla prossima con tante altre novità. Grazie. 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 Grazie.